Mareshalo non ci prende Eeeh Affanculo Ceno cazzo Vamos M1 M1 Prova a parlare Prova a parlare Ciao a tutti ragazzi Buonasera Prima mi sa che è È su TeamSpeak Soundpack Eeeh Che cazzo c'è Che cazzo fa? Che cazzo fai? Alza mani Alza le mani eh Perché che cazzo vuoi? E te che cazzo vuoi? Guarda come sta punto a me sta punto aiuto polizia Polizia Ma che cazzo? Oh c'è rimane in alto Vieni 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 Aldicari Che cazzo vuoi? Oh coglioni ma che poteri Da capare pezzo di merda Scemo di merda Mi viene addosso e mi fa sta cosa Ma va Sti sbirri Fa un culo sbirri ma che cazzo Non mettere pantoni Oh non mettere pantoni di carabinieri Che cazzo fai? Eeeh Sono belli eh Ha uno stile No no non puoi non puoi deve cambiare frati dio io No no cambio Mica maresciallo Maresciallo non ci prende Eeeh Affanculo Scemo cazzo Vai 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 bannato bastardo vai Eeeh Scemo Eeeh 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 Santino arriva Vai Frank quanto ci metti che dobbiamo andare? Eeeh 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 Guardi il cazzo è bannato sto bastardo di merda porco dio Aspetta il cazzo è 125 Ah è qua Non aspettiamo Santino vai Ah eeeh 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 Bastardo Ciao tu bro Ho appena arrivato Lo sai che è successo prima? Che è successo? Uno mi è veni dietro mi 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 spaccamacchina Io scendo punto Fra giro a destra Giro a destra il suo sbirri che mi puntano Io ho sparato tutti Ma questo che è trotto la macchina dimmi come si chiama che gli andiamo a togliere la testa Eeeh 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 Poliziotto Eeeh 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 La polizia tu stai che è una roba per il cazzadolo Ah ma te sei quello che c'ha il vento Aspetta Frank, te sei occupato Lo sento La giallorossa come i colori di messina Ok? E poi se volete andiamo a fare che bella rapina Dobbiamo fare la maria di messina Prendiamoci la macchina Eh io arrivo raga Tu tu che fai? Io bevo birro guarda Ah tu bevi ok Raga guarda te la volare la macchina Aspetta aspetta ma io c'ho macchina in circolistrata Io cazzo lo devo fare C'ho tutti e tre macchina in circolistrata Devo andare a sparare birro C'ho le sequestrate Venite con me Che devo fare? Vieni con me Lui si io no Eh chi ti sequesta a quei veicoli Sei tu? Cosa? Gli hanno sequestrato tre macchine a duro Cosa è stato tu? Eh no Io oggi non ho sequestrato i veicoli Allora prendi e di sequestrate veicolatura E' meravigliamente Eh non posso io E chi puoi? Eh si deve andare Se non puoi Si deve andare Ma tutti ci vuoi parlare Marca buttata Vai Santino spacca Santino spacca Non puoi di sequestrare i veicoli a duro? Si deve andare al civico 143 Eh andiamo a 143 Vai prendiamo la macchina Andiamo A 143 Ho tipo di sequestrate veicolo Io ti puoi il locale Ciao A Pankuru Andiamo a duro Eh? Andiamo a duro Quale macchina? Tu che puoi Non ho operare le palle Adesso è nostra Ciao Eh porco addio Andiamo a quale civico Che cazzo dell'altro Eh vai a 143 Vai vai Però abbiamo fatto un po' De scena Quella là 100 143 Vai vai Che vogliono Ci stanno inseguendo Ma che vogliono Chi ti segue? No Quello vanno Prendi i pesci Ah no vanno dritte Come come i potiziotti Ieri sera Perfetto Eh duro Io vado anche la centrale A prendere la macchina Arrivo subito Ciao Andiamo Sandi Andiamo Vieni il Frank Vieni c'è Eh non è una gracia Trappata la macchina Vieni vieni Montefranc Oh ora Questa è una macchina Cazzo L'altro Mi potevo far vedere Il comore Polizia Municipale Fa vangulo La fanculo Polizia Municipale Frega in cazzo Ma che c'è lì Ma che c'è lì Porca bestana Sono arrivati i banditi Ci hanno sparato E non hanno appena Bucato tutta quanta La macchina Uno con la macchina Gialla Forza Eccolo Eccolo Che è Quello che ci stava Vitando Che è Occhio L'altro cazzo Questa L'altro cazzo Oh e questo e questo E' lui E' lui E' lui Che fa VUD E' di merda Oh bannalo Santì Bannate questo qua Il gioco Quattro 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 Volte che vieni qua L'altro cazzo Ma è la vero E' Maniera troppo strana Eccolo 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 No rota porco cane Tazzo Oh eh no beh Fatti bene C'è quello male 4x4 C'è quello male 4x4 Questa è quattro Rote motri Che sto apposta Perché si Se roti così Si staccano Io che devo fare Deve andare sempre a piedi Eccolo Oh L'uomo L'hanno fermati Ma fermo Fermi Ma che cazzo è No Frank Entra Frank Entra Frank Entra Frank Frank Entra Che succede Oh Sparano Aiuto Ci sparano Ci sparano Perché l'hanno fatto Preso buttito Dico Ma ieri Mi li faccio tutti io Io bevo e sparo Tranquillo Io bevo e sparo Guarda 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 Che mi hanno sparato Ecco quelli arrivano 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 Che mi hanno sparato mia via 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 via, sali 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 guida 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 monta monta via voce guido guido a posto eeeh bastardiiii c'd resta anche l'elicotelo guarda 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 c'au la segui la f diaz ma dai finanziari di merda bastardiiii a posto che stanno seguendo un altro giuaguin tra stanno seguendo altri giuaguin ah ma hanno scambiato la macchina per la loro protezione che hanno fatto sono tutti stati annullati non capisco perché guarda me ne hanno scambiato per matteo messina denaro perché non mi spiego perché si era appena entro in città mi ritrovo 30 gente delle parti speciali sotto casa c'è capito che lui era libero come immagini vengono qua ma non è che vengono qua si avvicinano d'intorno e che dentro non entrano appena esci fuori d'inseguono non possiamo prendere un po' di persone ma in realtà mai e dipende ci devono state sempre autorizzazione tra in conto. lasciamo abbiamo l'elicottero su casa no sei atterrato è atterrato sta sopra o sta sopra ma per quanto mago guarda come si faccia guarda guarda si ma guarda come si perde l'elicottero ora spero facile vabbè l'elicottero è facile basta vai sotto il mondo ma ma che cazzo che cazzo che cazzo ma ma siamo caduti posto si si ma siamo caduti divenuti ma ma vi sembra normale stamattina minchia 7 3 9 8 stiamo andando e cioè guarda 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 ma se ci stupide per colmo io ma chi cazzo è sta roba raga ma porco dio ma tu ci dai poteri da bando se non erro guarda mi mettono macchino e davanti mi mettono mandi io cani ma vaffanculo o finanziari nel cazzo mi sembra normale guarda pure l'elicottero no io non capisco io ora faccio faccio così perché cazzo anche loro ma si bravi ma che cazzo è dove è santino penso che stava preso di sull'autostrada penso che ci stava venendo dietro per cercare se cambio macchina mi inseguono ancora con i adesso sì sì perché loro guardano da live per questo io ora vuoi a piedi guarda la sua macchina qua e poi a piedi ti ritrovi che ti fermano tutti puntando diretti non gli alza le mani scappa frank scappa raga è normale ste sbirie guarda siamo ti metti in casa qua con pass out accovacciato ti ritrovi tutto dentro fra poco ci ritroviamo tutti che c'è ma io scappo c'è 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 veramente io o son scemo io ma che cazzo perché ecco 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 che vuol dire eccolo che vuol dire eccolo che vuol dire eccolo ma che cazzo che vuol dire eccolo che vuol dire eccolo che vuol dire eccolo che vuol dire eccolo monta monta frank frank monten no fermati fermati che vuol dire eccolo aspetta fermo fermo che vuol dire eccolo che vuol dire eccolo te scemo io ti faccio bannare ora fermati fermati un po' aiuto le mani aiuto le mani aiuto le mani ma che cazzo è raga guarda guarda stanno prendendo a lui guarda guarda mi senti che vuol dire eccolo non ho capito io che vuol dire eccolo eh oh che amati sossa qua io qui mi sa che qui ci partiamo con gli bambini ma porco dio quelli non sanno fare un cazzo stupide porco dio eccolo come ho fatto e come fai a dire eccolo c'è come fai a dire eccolo c'è ho cambiato macchina ho cambiato eh l'ho tolto vestito ho tolto maschere mi fa mi fa eccolo mi fa eh scemo vieni monta monta vaffanculo stupido stupido di merda c'è ma ma sbirri non sanno ma che cazzo fanno cioè io ho cambiato maschera ho tolto maschera è santino con la macchina è santino si questo che fa qui che fa qua dentro oh chiedemi mi ah sei te ah ecco te duro ma che cazzo fanno io aspetta aspetta mi spieghi io cambio io tolgo maschera cambio macchina non mi vede nessuno ci passo lì mi fanno eccolo e mi iniziano a seguire ascoltami la situazione dura e grave perchè se stanno l'elicottero sopateroi della pirata si ma non mi hanno visto ero sempre sotto ponti capito non mi hanno visto nessuno esatto ma poi ci siamo spogliati sotto al fondo capi ma che ne so ma che ne so non lo so eh non mi chiedere nemmeno perché guarda ok allora che vogliamo fare io c'è una macchina che ti gioco dei carabinieri e come una macchina di carabineri eh andiamo a fare appieno con al manco di carabinieri e ti vedi e capo e andiamo avanti e sbiri vai Gaara Central va ma vau in mano vau in mano ma la Gaara Central va destra vai a destra e dai dove vai non devo andare dove vai non devo andare non ti preoccupare allora ti passa da qua piano piano ok ma santino mannaggia un cazzo scemo cazzo hai perso mannaggia un cazzo non meno me lo toccato non so per me lo riparo riparo arrivare arrivato lo so per quale modo di rimanere si può negozio deve essere ma è la magra delle carabinie rubate andiamo a fare e fare guai sono qua cazzo in cabina di car allora c'è il meglio di sconti non so che la musica santi metti la musica ma spengi ste cazzo di sirene che mi sfoglia la testa cazzo ma chi è poliziotto una fliga una bella fliga allora la banca buona aspetta perché sta la gioielleria entra un attimo vediamo che quello ti dice che oggi è termo non vediamo se c'è una bella genna moriamo ai gioielli capito controllo controllo un attimo che già ti servono aspetta o madonna stai piante che è successo che vuole l'esorcista pure bene prima dove farà pino qua dentro se volevo fare la pina qua dentro la cione di a te piace sono lei che facciamo senti dove sta il capitano della chiesa in questo momento in facciamo le radio di chi sono io chi sei tu dire che ci sta il messinese che sta facendo la gioielleria ma lei lascia ad andare o qui spariamo come pazzi vi sto avvisando carabinieri com'è che si chiama lei il messinese e qui c'è anche il cazzaco io sono insomma in che senso ragazze ma ciao io sono buonese che duro duro vieni qua e noi spariamo mamma 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 vabbè se non vi dispiace ne andiamo via buona serata arrivederci perco di scoltarti non si può uscire da qua ok 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 non vado a scappare io ho la parere morta puttana ma se ti deve ti sentite? si si ora si ok ce li abbiamo ancora dietro ce li abbiamo ancora dietro avanti lo sbire via 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 su uno mi senti? si si allora su su ok la cosa affermati affermativo scendiamoli e gli spariamo adesso ok vai 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 uno morto assente vai si mannaia la magina dei carabinieri c'è gps e infatti noi la facciamo su un terrenario no non ce l'hai gli agenti no no va buona cosa ciao poi rimanete qua andate in casa andiamo in casa andiamo in casa andiamo in casa andiamo in casa dentro la casa dentro la casa ma come cazzo fanno a non che cosa che cosa si si vai entra entra entro vai entra entra vai entra entra a la 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 un cazzo io qua non ti preoccupare non ti preoccupare percorso perchè non posso mettere da prima visione qua ah ecco fatto due fatto due dai ma addio cane stessangue ma che cazzo è sta roba e questo come mi hai fatto ora minchè che rompe il cazzo questo c'è come mi cazzo hai fatto ora questo è quello che ha scritto godo e divertiti in band scemo non si può usare cispoli signora i limoni signora a io non so se si può usare o no no ma come cazzo mi hai ammazzato non c'era niente c'era porta chiusa no no non si può non si può usare c'è